Buste di plastica con all'interno immondizia, oggetti per la casa ormai non più funzionanti, seggiolini per bambini, rifiuti di ogni tipo e addirittura pneumatici. Insomma, una vera e propria discarica a cielo aperto è ciò che si trova percorrendo una delle arterie extraurbane adiacenti la Statale 101 a Gallipoli, una strada che, al bordo della carreggiata, regala un particolare panorama a residenti e turisti, i quali, soprattutto nel periodo estivo, affollano il Salento. Si tratta di rifiuti che sono stati gettati lì dai gnoti approfittando dell'attività di pulizia fatta tempo prima da ANAS. La società, infatti, aveva raccolto quanto trovato sulle strade extraurbane della zona in sacchi bianchi, gli stessi che si possono trovare qualche chilometro prima sulle vie laterali della strada statale 274 in attesa di essere raccolti e la loro presenza, in un certo senso, quasi autorizza altre persone a contribuire per ampliare queste vere e proprie discariche abusive. Stanno, come dire, continuando ad abbandonare ulteriori rifiuti, sapendo che poi l'ANAS ritornerà a smaltire questi rifiuti già raccolti. Tutta una serie di attività illecite, abusive, di chi svolge attività, diciamo, nell'ambito dei servizi di riparazione, di gomme, è indotto poi ad abbandonare i rifiuti, lì dove ci stanno delle condizioni favorevoli perché appunto non sono sottoposti a particolare controllo. A distanza di quasi sei mesi dal primo appello, l'invito d'Italia Nostra a Sud Salento rivolto alle autorità competenti è quello di intervenire per rimuovere quanto prima i rifiuti, ma soprattutto iniziare una serie attività di prevenzione. Noi facciamo appello alle istituzioni, a partire dalla Prefettura, perché istituisca dei tavoli istituzionali e sociali per poter non soltanto monitorare in maniera periodica e continua questa situazione di abbandono dei rifiuti in generale sul territorio in maniera illecita, ma anche di quali azioni mettere in atto per poter prevenire e reprimere azioni di questo genere.